Sai che c'è di nuovo in Lombardia? Il Consiglio regionale taglia vitalizie e stipendi dei consiglieri grazie a una legge fortemente voluta dal PD. Altri lo dicono, noi lo facciamo. Il Consiglio regionale della Lombardia ha 80 consiglieri. A ognuno di loro dal sessantesimo anno di età spetta un vitalizio base di 1600 euro mensili che ricevono per tutta la vita. Grazie alla legge presentata dal PD Lombardia questo vitalizio sparirà. Così si risparmiano 30 milioni di euro in futuri vitalizi. A fine mandato, ogni consigliere ha diritto a una liquidazione e questo vale per tutti gli 80 consiglieri per ogni legislatura. Grazie alla legge presentata dal PD Lombardia questa liquidazione sparirà. Così si risparmiano 130.000 euro a consigliere per legislatura. Le assenze dei consiglieri regionali, dei lavori d'aula e di commissione saranno sanzionate più pesantemente. Grazie alla legge presentata dal PD Lombardia verranno tagliati 220 euro per ogni assenza. Altri lo dicono, noi lo facciamo. Gruppo del PD in Regione Lombardia